Bene ragazzi, finalmente abbiamo ottenuto la bandiera, quindi forse adesso possiamo localizzare il punto esatto in cui è affondata la nave di Bella Fischer. Eccola qui la bandiera. C'è un buco sopra. Ci mancano ancora due chiavi. Ho capito come facciamo quindi. Ah ok. Perfetto. Vai. Gettiamo l'ancora, dovrebbe stare qua sotto. Ma non c'è niente. Zitti zitti ecco. Ecco la chiave. Vai, prendi, prendi. Ammazza, è crollato tutto. Non sono superstitioso, ma ho visto uno di più tanti giovani. Via, 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 via. Non c'è niente. a dare il prisione un drinko di water? No, Capitaino, non hai fatto. Mi stavo agire sull'initiativa. Quando io voglio l'initiativa, mi chiede per l'initiativa. Of course, sir. Io ho bisogno di essere un giocatore team. E ora, il giocatore è focato su una cosa. Il segretario. Uh, sì, sir. What? What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Capitain. This will be the last time I bring it up. Yes, it will be. Mazza, oh, è inquietantissimo. Allora, l'ultima chiave, ragazzi, ce l'aveva la vecchia. Sì, l'ho saputo. Ho quattro chiave dorata. Che ha preso la tua chiave? Che ha preso la tua chiave? Ok. Vabbè, ci vediamo. Eh, ragazzi. Chi può averla preso? Bello. Fine. Just thought I'd ask. Love you. You too. Ma quanto siete dolci. Love you. You too. No. Mi sa che dobbiamo salire a bordo della nave di LaChuck. Cioè, sinceramente non lo so, eh. Eccola qui la chiave. Cioè, ma veramente? Creepwood ha tutte le chiave? Cioè, capitan. Ho appena recuperato l'ultima. Preparate a set sail per Melee Island immediatamente. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw. You're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent and other people. Vabbè, noi andiamo subito. Senza perdere tempo. Cosa mai potrà succedere? Ah, la tipa non c'è. ci penso io. Tac. Tac. Vai, vai. Quattro. Eccola. Cosa? Eccola. Eccola. Wow. Eccola. Cosa? Ok, non ho pensato ancora di pensare di potere ancora un lock. Questo sembra un'ottima overkill. Non c'è un numero di seriale. Potremmo che posso cercare l'ho? Non è un problema, probabilmente la chiave è in un posto ovvio. Questo non è un problema? La chiave è probabilmente in un posto ovvio. Ma dove? Oh m***a! Non è un problema di farlo che hai fatto? Ho scoperto l'esporto, Threepwood. Ma forse sempre vince in l'era. You should try it sometime Good luck opening that It's well made I tried everything I could think of for a whole minute And I didn't make a dent in it Of course not The secret can only be revealed In a ceremonial chamber Located deep within the bowels Of Monkey Island That would have been nice to know ahead of time It pleases me To have you live with the knowledge Of how close you were To having this before I took it from you So I've decided not to kill you Right this minute The deal is off Don't even think about following me And count to a hundred Before you leave the building Cento Via Oh Guybrush Wideybone said she saw you come in Are you all right? No Insomma I mean Yes I'm fine Do you want to talk about it? The truck has the secret And he's headed for the bowels of Monkey Island The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose Let's talk on the way Parte 5 Sotto la testa di scimmia Grazie a tutti.